Allora siamo pronti, ritorna a Balè Balè, è il momento del gruppo folk italiano alla Casa Dei dei maestri Malpassi. Gruppo folk italiano. Il gruppo folk italiano alla Casa Dei, diretto dai maestri Bruno e Moni a Malpassi, nasce nel 1968 a Ravenna. Per la passione dei suoi fondatori, per la musica del maestro secondo Casa Dei ed il ballo folcloristico romagnolo. Scopo dell'associazione fin dalla sua nascita è quello di diffondere e far conoscere il nostro folklore ed in particolare la musica ed i balli romagnoli. Alla fine degli anni 60, con le prime esibizioni pubbliche, il gruppo folk italiano alla Casa Dei realizza per i ballerini un originale costume, ancora oggi facilmente distinguibile ed è riconosciuto dalle edizioni musicali Casa Dei Sonora come abito ufficiale della musica da ballo folcloristico romagnolo. Nel 1971 apre per primo una scuola di ballo folcloristico romagnolo. Sempre presenti nei loro spettacoli sono gli sciucarei, ovvero ragazzi e ragazze, che a tempo di musica schioccano la frusta creando, in occasione di sagre o manifestazioni, un'originale attrazione. Oggi la scuola di ballo diretta dai maestri Bruno e Monia Malpassi organizza durante il periodo invernale corsi per tutte le età. La scuola di ballo diretta dai maestri Bruno e Monia Malpassi La scuola di ballo diretta dai maestri Bruno e Monia Malpassi organizza per i ballerini un'originale attrazione. La scuola di ballo diretta dai maestri Bruno e Monia Malpassi organizza per i ballerini un'originale attrazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.